Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Stiamo per guardare insieme una finale stupenda del Champions Tour con partite veramente pazzesche. I due finalisti sono Magnus Karzen e Daliresa Firuja. Se vince Karzen è finita perché Karzen non ha mai perso e è sempre rimasto nel tabellone principale. Se invece vince Firuja e allora la finale si protrae per un ultimo decisivo match rapid al meglio delle due partite. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Nicole e CM, due nuovi abbonati alle mie video lezioni che sono una libreria che trovate qui sul canale YouTube, piena di lezioni stupende, al solo costo dell'abbonamento di 2,99€ al mese, ma ci sono già quasi 34 ore di video lezioni, subito tutte disponibili per voi e naturalmente aumentano mese dopo mese. E allora quale modo migliore per migliorare e per supportare il canale? Adesso like al video e partiamo subito perché in questa partita di bianco gioca Firuja che apre con D4. E allora Karzen risponde con D5, C4 e 6, cavallo in C3, cavallo in F6. Siamo nel classico gambetto di donna. E allora Firuja definisce subito la posizione al centro, C per D5, il pedone ricattura, alfiere in G5, fuori dalla catena pedonale, inchioda il cavallo sulla donna. Karzen risponde con C6, arriva E3, alfiere in E7, la mossa più giocata, invece Karzen sceglie, alfiere in F5, linea nella quale il nero ha risultati migliori. E allora ci sorprende però anche Firuja perché di solito qui il bianco gioca a donna in F3 che va subito ad attaccare questo alfiere che molto probabilmente tornerà indietro in G6. E invece Firuja gioca cavallo G che va in E2, H6 attacca l'alfiere, alfiere in H4, sviluppo del secondo cavallo in D7, pensate è rimasta una sola partita in database, importantissima per quanto riguarda lo studio, giocata lo scorso anno, vinta da Mamediarov di bianco contro Wesley So. Firuja come Mamediarov gioca a F3 che ha un duplice scopo, aprire una via di fuga per l'alfiere e anche per la spinta con tempo in G4. E allora sì che arriva alfiere in E7, alfiere in F2, alfiere in H7, proprio come giocato da Wesley So impedisce che G4 arrivi con tempo. E allora Firuja G4 non la gioca, gioca cavallo in G3 che libera l'alfiere campo chiaro, donna in B6. Donna in D2, va a proteggere il pedone, arrocco corto per il bianco, arriva alfiere in E2. Sono passate 13 mosse e siamo ad un momento importante di questa partita. Avendo già arroccato Wesley So cosa aveva fatto contro Mamediarov, aveva subito spinto in C5, invece arriva la novità migliorativa di Karse. Torre in F che va in E8 e la partita diventa originale. Arrocco corto pare la continuazione più appropriata, invece per non perdere l'occasione di avere due pedoni al centro, Firuja spinge subito in E4. D per E4, il pedone F ricattura, stranamente Karse incommette un errore. Il centralizzare la seconda torre sarebbe stato ottimo e invece Karse ingioca C5. Guardate cosa esce fuori da questa che sembrava un'innocua spinta di pedone. Arriva E5 e guardate il cavallo è fondamentalmente intrappolato. E allora per uscire da questa posizione il computer vede di nuovo questa idea di torre in A che va in D8 che lascia però il bianco in vantaggio. E invece Karse va a giocare sulla tattica. C per D4 che attacca anche il cavallo, l'alfiere ricattura e attacca la donna, alfiere in C5, secondo attacco sull'alfiere, ma arriva cavallo in A4, attacca la donna, secondo attacco sull'alfiere. E qui il bianco ha preso un vantaggio tattico importantissimo. Naturalmente Karse è esposta la donna, cavallo per alfiere, il cavallo ricattura, ma Firuja manca il finale di questa combinazione comunque piuttosto complessa. Come mai? Ricordiamoci intanto che queste sono partite rapide a 10 minuti. Oh, cosa bisognava fare? Vi faccio vedere come è mai complessa. Bisognava, in partita, Firuja si fa ingolosire, vince subito il pezzo, ma non riuscirà poi a mantenerlo. Come bisognava continuare? Con alfiere per cavallo, mossa migliore. E allora è la torre che cattura il pedone e minaccia l'alfiere. Alfiere in D4 è l'idea migliore, ma c'è cavallo in E4 che attacca la donna. Il cavallo non può essere catturato, e vi faccio vedere perché, è qui che si complica la faccenda, perché se cavallo per cavallo la torre ricattura, e vedete ci sono due pezzi quasi inchiodati, dopo arrocco corto, donna in D6. E qui non si riesce a proteggere il pezzo, perché c'è anche l'altro pezzo pesante che arriva in D8, e il nero si riprende il pezzo. E allora dopo cavallo in E4 che attacca la donna, bisogna giocare donna in F4, la torre sotto attacco si sposta con tempo, ci vuole torre in D1, e allora cavallo per cavallo in G3, la donna ricattura e minaccia matto, guardate che lunghezza, si interpone la torre, e qui il problema, la cosa che fa paura, è che la donna catturerà sicuramente in G2, ma arriva donna in C3, perché donna in F3 non serviva a niente, entrava in gioco anche dal fiere Campochiaro, donna che cattura in G2, ma adesso donna in F3 si può giocare, va a proteggere la torre, forza il cambio donna e il bianco, rimane col vantaggio materiale, quindi molto complicata la faccenda, immaginiamo anche la tensione, e allora Firuja cosa fa? Cattura subito il cavallo col pedone, torre in A che va in D8, e inchioda, attacca ed inchioda l'alfiere sulla donna, qui non funziona neanche donna in C3, tant'è che giocherà arrocco corto Firuja, come mai non funziona donna in C3? Perché immaginatevi il re ancora in E2, quindi con l'alfiere inchiodato dalla torre, se donna in C3 arriva il cavallo che dà scacco, e alla fine non si riesce a mantenere il pezzo, e allora cavallo in E6, secondo attacco sul pezzo inchiodato, alfieri in F3, se non altro migliora l'alfiere perché attacca la donna, la donna si sposta in D6, vince un pedoncino, ma donna che cattura in D4 con scacco, donna per donna, Magnus Garza incommette un'altra imprecisione. Cosa fa? Intanto, intanto, dopo la mancata, dopo il mancato finale di combinazione di Firuja, su per giù, è tornata in equilibrio la partita, ora la ricattura migliore sulla donna è di torre, invece lui cattura col cavallo, niente però di trascendentale, si potrebbe assoluto far meglio, alfiere per pedone in B7, cavallo in E2 con scacco, cavallo per cavallo, la torre ricattura. Attenzione! E allora B4, mossa migliore, intanto Carzan, visto che siamo sul finale, toglie di mezzo il pedone, Firuja è rimasto con un pedone di vantaggio. A3 adesso sicuramente buona, ma come è buona anche torre in F4, torre in B2, arriva A4. guardate la tecnica di Carzan, con la sua tecnica sopraffina, lui cosa ha fatto? Vuole bloccare questa torre, e più che altro, vuole entrare con scacco, con la torre in D1, per forza, perché il re non si può muovere, per forza questa torre deve intervenire, torre per torre, il re ricattura, cade B4 con sicura parità. e allora Alfiere in F3, forse conveniva giocare H3, ma insomma, inizia anche a mancare il tempo, perché sono passate 30 mosse, F5, H3 giustamente arriva adesso, Carzan attiva il suo re, e qui, B5 ci sta bene, però il problema di Firuja è che non gli piace avere questa torre intrappolata, lui cerca di liberarla subito con torre in A3, re in E5, un re sempre più attivo, Carzan, ha di nuovo equalizzato. Allora, torre in H4, Alfieri in E4, ora, che succede praticamente? Qual è il discorso? Il discorso è, bisogna stare attenti, perché tutto inizia a puntare, su queste case chiare di fronte al re. E allora, se torre per pedone, arriva torre in G8, ed è un grossissimo problema, un grossissimo problema, e allora per questo motivo elimina subito l'alfiere Firuja, alfiere per alfiere in E4, come ricatturerà Carzan? Di pedone, Carzan al pedone passato. Però, c'è lo scacco di torre, torre in H5 con scacco, re sempre più avanzato, finalmente Firuja, si riprende un pedone, torre che cattura in H6. Come vediamo, il materiale di vantaggio ce l'ha Firuja, ma guardate questa torre in seconda traversa, il re avanzato, il pedone che vogliono avanzare, una torre che potrebbe, anche la seconda torre che potrebbe supportarlo, non c'è niente da ridere. E allora arriva torre in G8, G4, torre in C8, Firuja, manca la manovra con tempo, che riuscirebbe a far rientrare questa torre, che inizia naturalmente con lo scacco da D6. E allora cosa fa? Gioca torre in F6, guardate la barra, Carzan alla partita in pugno. Arriva lo scacco di torre, torre in C1 con scacco, torre in F1, ma incredibilmente, Carzan manca un'idea finale, un po' complicata, come mai un po' complicata? Ora io ho cercato l'idea più umana, vi farò vedere, cioè non vi faccio vedere le altre, ma vi dico, ci sono tante tante possibili risposte da parte del bianco. Cosa doveva fare qui Carzan? Carzan doveva cambiare le torri, torre per torre in F1 con scacco, quando il re ricattura E3, supportata dal re, e guardate questa torre rimane praticamente fuori gioco, B5, re in E4, per fare cosa? Per andare in F2, minacciare scacco matto, A5, re in F3, scusate, non in F2, il re bianco è costretto a spostarsi, torre in B1 con scacco, re sempre più laterale, arriva re in F2, ha voglia di giocare B6, A per B6, A per B6, E2. Anche inchiodando il pedone su re, non c'è niente da fare, perché dopo torre che cattura il pedone in B6, questi pedoni sono troppo lontani, e qui che si fa? Se questa torre bianca rimane ad inchiodare il pedone sul re, sarà naturalmente il re che si sposta, o la torre che torna, e poi il pedone potrà tranquillamente promuovere, quindi finale è vinto per il nero, e invece cosa fa Karsen? Passa da vincere a perdere, raddoppia i pezzi pesanti sulla seconda traversa, ma in realtà lascia un'idea micidiale al bianco per portarsi in vantaggio, e noi siamo arrivati al nostro quizone, sì, perché c'è una sola mossa che fa vincere al bianco questo finale, mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, guardate Firucia, torre in G3, protegge la casa G2, si piazza dietro il pedone passato, allora arriva E3, il pedone passato deve avanzare, G5, torre in F2, torre in E1, cerca un cambio, almeno delle torri, ma il cambio glielo fa fare Firucia, torre per torre in E2, la torre di Carza in ricattura, arriva G6, torre in E1 con scacco, re in G2, torre in E2 con scacco, re in F1, torre in F2 con scacco, Firucia piazza il re di fronte sulla casa di promozione del pedone, e allora torre in B2, ma arriva anche G7, re in D3 per dare matto, e invece il re di Firucia si sposta in F1, torre in B1 con scacco, re in G2, guardate il povero pedone non può avanzare perché è inchiodato sul re, torre in B2 con scacco, re in F3, Magnus Carlsen abbandona, perché è vero che adesso il pedone si può muovere, ma dopo E2 arriverà torre in G1, re in D2, ma intanto il bianco va a donna, e se va a donna anche il nero, lo scacco di donna da D5 stacca il re dalla donna, il nero è perduto, e allora vince Firucia e si va quindi dunque avanti con questa meravigliosa finale, l'avreste mai detto che Carlsen avrebbe perso il finale di torre? Ma negli scacchi tutto è possibile, intanto se vi piacciono questi contenuti e volete vedere i migliori tornei di scacchi con me, e continuare a vedere questa fantastica finale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, aiutatemi a farlo crescere, datemi supporto, io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, spero che la partita vi sia piaciuta, e noi ci vediamo sabato con un nuovo video. A presto!